Triestino classe 72 cresce tra sport e musica dopo gli studi classici e la laurea in scienze politiche intraprende una propria personale recherche si potrebbe proprio dire che lo porterà alla scrittura alla musica e alla meditazione zen restate con noi subito dopo la sigla buongiorno bentornati a tutti gli amici di aracne tv il sipario di spazioscenico si apre sul protagonista di oggi renzo maggiore buongiorno o dovrei dire renzen meglio renzen questo esatto nome d'arte che in realtà è proprio una griff e poi andremo a parlare anche di questo allora innanzitutto chi era renzo da bambino come si immaginava d'adulto mamma istriana innanzitutto quindi è importante rivendicarlo padre pugliese papà pugliese mezzo sangue a tutti gli effetti ma era un bambino vivace fino ad una certa età cantavo fin da subito imitavo celentano quindi c'era già i prodromi diciamo così di quello che sarebbe stato dopo poi in realtà con gli anni mi sono un po perso per strada perché sai la famiglia e la scuola se non funzionano in un certo modo ti stroncano però ho fatto 7 anni piano forte le cose sono andate avanti abbastanza bene la musica era comunque nelle due corde questo sicuramente allora tutto è iniziato con una ricerca scientifica ma anche spirituale è iniziato con tre anni di meditazione a trieste perché io da là vengo dove ho cercato di capire tutti questi disagi che provavo nel rapporto con gli adulti sui banchi di scuola perché avevo questo disagio ma non avevo gli strumenti per capirlo e quindi ho cominciato a meditare per capire i condizionamenti che aveva iniziato a lavorare su te stesso quindi molto e da lì poi ho scoperto la poesia sai benissimo essendo scrittrice che scrivendo poi uno si sfoga e rielabora il tutto e lì è cominciato questo percorso incredibile che sia analitico sì ma anche spirituale ho fatto reiki yoga fino allo zen il valore terapeutico della scrittura della narrazione del se poi per ritrovare se stessi e comprendersi meglio e devo dire che questa cosa della scrittura l'ha preso parecchio perché Renzo dal 2004 ha pubblicato 24 volumi tra poesia prosa e saggistica qualche cosa qualche titolo ce l'abbiamo non so se la regia ce lo può mandare ecco tra l'altro dei titoli fortemente evocativi perché questo si intitola saper essere non solo essere ecco essere a volte viene confuso con l'apparire o di torno sapere essere è qualcosa di più insomma trascende il semplice essere sì questa è una competenza umana non è sapere sapere saper fare saper essere saper far fare sono quattro essenzialmente e in questo libro che manuale di formazione perché io sono un formatore professionista alla fine coach racchiudo vent'anni di esperienza sul campo nelle scuole nelle aziende negli enti pubblici quindi saper essere saper ascoltare saper comunicare in modo efficace con gli altri con se stessi l'intelligenza emotiva che purtroppo non è così discorso nelle scuole tu insegni anche questo poi arriveremo arriveremo anche io voglio invece dare prima un altro input che appunto è la musica quest'anno è uscito il tuo primo album se ascoltassi voglio far vedere la copertina innanzitutto bellissimo chiaramente zen 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 ren zen tutto zen chi più ne ha più ne metta e ti va se facciamo ascoltare un piccolo brano magari sentiamo tu vuoi farmi capire spiegarmi tutto ma lo sai che non funziona che ci arrivo da me bellissima renzo ti fa un certo effetto condividere con tutti le tue parole il tuo testo le tue note io invece proprio devo condividere perché tutta questa scrittura viene chiaramente da me ma è rivolta agli altri io ho sempre fatto il modo insegnato nelle scuole negli enti di formazione è dedicata a qualcuno in particolare sì questo nasce dal rapporto col padre ma in generale con i genitori vale per me ma vale per tanti altri quindi tutte queste parole avevo capito che non era un rapporto di coppia il fatto se ascoltassi nel rapporto di coppia uno deve lasciare libero l'altro invece comunque tra genitori e figli c'è sempre questa difficoltà di comunicazione penso in questo brano si riconosceranno in tanti ho già avuto dei feedback di gente che si emoziona ascoltando ma è bellissimo guarda ho la pelle d'oca tra l'altro questo è per me è sì facciamolo vedere che ce l'ho materialmente questo dà il titolo all'album senti dove si trova allora le coppie fisiche ne ho fatte 500 bisogna scrivere a renzen official su facebook e ve le porto io ve le spedisco io invece si trova in tutti gli store mondiali ma proprio tutti anche quelli locali in afghanistan sud corea dappertutto molto cari i titoli bellissimi elettrozen non vedo no di sentirle tutte elettrozen è il singolo che sta andando adesso io comunque adesso quando torno a casa stasera in macchina per forza mi tocca mi tocca poi ti farò sapere allora l'abbiamo detto hai insegnato comunicazione efficace intelligenza emotiva sistemica il suo rapporto con gli studenti trovi humus da parte loro sono molto diversi da come eravamo noi da ragazzini non è facile rispondere perché ho studenti dai 16 agli 80 anni avendo anche imprenditori poi gli ultimi anni ho fatto solo sistemica che significa proprio andare al vertice di un'azienda di un ente e comunicare con chi ha il potere poi effettivo di cambiare le cose però parlando di giovani se vediamo interessante ho visto molti giovani disorientati no che fanno le scuole perché quasi devono non sono come lo eri tu forse io mi sono poi lasciato scorrere quando ero piccolo ho fatto le scelte più in base all'ambiente che vedevo che il tipo di scuola però fatto liceo classico scienze politiche il vero percorso di studi mi è stato dopo l'università quando ho capito che mi interessava proprio la parte insegnamento infatti la tesi di laurea è stata sugli insegnanti quindi poi invece capire il tuo nocciolo se vogliamo allora lì comincia il vero il vero studio vero percorso ecco la tua attività principale è ben presto diventata infatti quella di formatore e coach proprio spirituale che cos'è ren zen perché oltre a essere il tuo nome d'arte è proprio marchio no si è uscito da solo non è con nome d'arte perché renzo mi suonava benissimo ma poi ho scoperto le etimologie di queste parole ren vuol dire i fiori di loto in giapponese che è bellissimo più legato alla meditazione di questo non c'è però anche in egiziano ren ha un senso che la grande casa il grande nome io sento molto questo legame con la civiltà egizia zen vuol dire meditazione che è quello che ho fatto per arrivare poi a comprendermi meglio a comprendere egiziano però ho qualche origine lontana vedi ti manca la parrucca proprio da faraone sacerdote da faraone davvero senti la via vuoto integrazione amore si è il tuo libro in uscita con aracne sì questo è l'acronimo ren zen è la via che propongo alle persone per riuscire a capire cosa è la meditazione perché vuoto integrazione amore sono tre lemmi particolari quindi è una strada no perché prima prima cosa da fare svuotarsi infatti ho fatto questo negli ultimi anni proprio fisicamente che mentalmente non puoi essere zen se sei pieno di congetture di pensieri svuotami e non è facile in questa società dimagrire tutti a dieta far dimagrire la mente lasciare andare i pensieri l'integrazione significa far lavorare più assieme gli emisferi destro e sinistro perché non puoi staccare del tutto le emozioni della razionalità vanno unite quindi dare spazio anche al tuo essere profondo a quel punto arriva l'amore perché hai unito invece che dividere quindi lo scopo è riconoscere le divisioni dentro di noi e fuori di noi integrarle e vivere nell'unità sia come persone che come società come una comunità certo ecco proprio di questo ti vorrei parlare mi interessa cosa cosa l'importanza della gestione emozionale della dimensione valoriale per tutti i sistemi quindi dall'individuo diciamo così alle istituzioni se vogliamo cioè a chi deve gestire no poi il sistema sociale i vari nuclei e le agenzie di socializzazione primaria quindi la famiglia la scuola e quant'altro tipo di sistema la sistemica si chiama così perché tratta i sistemi il sistema un cerchio fai conto quindi la persona è un cerchio è un intero fatto da parti la parte emozionale valoriale è fondamentale lo sappiamo le emozioni riconosciamo ma si parla molto di valori senza sapere cosa significa e come trattarli valori quindi una parte della sistemica fondamentale la costruzione ad esempio nella famosa carta dei valori in cui la persona riconosce delle parole calde le chiamo io no quelle che proprio ti muovono solo a pronunciarle che è soggettivo e poi da un significato queste parole perché non basta la parola la parola è un grande contenitore specialmente valori significato chiaro come fosse un vocabulario e poi comportamenti attesi e la è più difficile le aspettative delle aspettative deve essere coerente una cosa secondo te qual è l'impasse antropologica sociale storica culturale economica in cui stiamo vivendo oggi perché questo è così difficile da capire bisogna riscoprirlo perché voglio dire sentendoti parlare è buon senso no certo comunità società la condivisione di valori comuni di ideali perché invece adesso c'è tanto odio tant'agonismo ci sono tanti punti in realtà non è solo uno mai no però quello a me piace andare alla sorgente dei problemi non andare in mezzo al fiume per curare i salmoni anche perché non serve la sorgente secondo me è questa proprio cominciare dall'inizio noi invece di educare riempiamo 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 per questo lo zen perché lo zen fa il contrario serve lo zen oggi per svuotarci da tutte queste convinzioni schemi quindi un insegnamento senza un'educazione diventa deleterio poi la persona da sola si ritrova una certa età oppure inevitabile che in fase adolescenziale soprattutto ti disorienti o trovi un punto di riferimento chiaro se non è dura è certo anche perché appunto riempire 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 significa comunque di stratificare nozioni e nozionismi e poi riempirsi comunque di stereotipi e poi ti aggrappi a qualcosa di esterno hai capito che ti aiuta in qualche modo e bisogna appunto delle risposte prese da fuori quando invece le domande vengono da fuori ma le risposte sono dentro di noi sempre e comunque l'esterno va bene ma è te stesso che devi guardare sono perfettamente sulla tua stessa lunghezza d'onda a parte la dieta allora renzen school un servizio di orientamento e mentoring individuale di gruppo è questo il tuo prossimo progetto? sì che fa parte poi del progetto Renzen è un progetto filosofico letterario musicale e formativo non poteva essere così altrimenti quindi sì vorrebbe anche essere una scuola un posto fisico dove le persone possano venire ma già il sito internet renzen.it già il disco già i libri sono Renzen School quindi chi volesse approcciarsi comunque a questa tua Weltanschauung perché non mi piace chiamarla filosofia di vita ma proprio Weltanschauung cioè una visione di vita diciamo e può andare direttamente intanto sul sito poi si è alla ricerca di una sede fisica in realtà della scuola sì spero da settembre ottobre di riuscire a trovare un posto dove poter operare fisicamente e forse più posti perché se dovrai coprire tutto lo stivale bisogna essere riconoscibili siccome io non ho una tunica uno a Trieste e un austuni sicuramente non ho una tunica sono un ordinario uomo non sei un guru no certo questo tante volte ci fa fatica a non avere una tunica addosso perché non ti riconoscono non è l'abito a fare il monaco no si dice io ho fatto l'animatorio turistico nei villaggi del sud proprio ne parlavamo prima e ho visto che invece l'abito in qualche modo ha fatto il monaco perché ti riconoscevano come l'animatorio turistico e beh certo vabbè ma quello è lo stereotipo che invece va abbattuto va abbattuto sicuramente allora voglio farvi vedere questa bella foto che ci hai portato tua e secondo me a livello simbolico è bellissima perché noi siamo fatti di luci e di ombre e anche la parte d'ombra va nutrita dentro di noi altrimenti poi troviamo qualcuno che la nutre per noi il famoso Tao il bene nel male e il male nel bene comunque che si compenetrano qui ero su un parco davanti a 800 persone a grado ah vedi come no conosco conosco ascolta e poi fai dei collage meravigliosi li voglio far vedere ci restano pochissimi secondi sono alcuni sono bellissimi li facciamo vedere perché secondo me il messaggio che tu dai è un messaggio soprattutto di vita di luce di colore quindi ecco come attraverso la spiritualità e coltivare la propria interiorità a seconda che uno creda non creda la religione questo sono discorsi che non interessano diciamo il tuo ambito trasversale esatto trasversale non conosce davvero latitudine e longitudine chiunque può approcciarsi alla meditazione zen e ritrovare i colori e le luci dentro di sé e quindi poi anche fuori perché l'altro da sé è una gioia è una gioia è un spirito spiritoso non è tristezza non è questa cupezza Renzo grazie davvero di essere stato nostro ospite oggi Renzo Maggiore Renzen mi raccomando il suo album il suo libro Via in uscita con Aracne vorrei presentarlo sicuramente da noi ti richiamo appena esce ringrazio a tutti voi di averci seguito fin qui vi do appuntamento come sempre lo sapete se volete qui a Spazio Scenico su Aracne TV Grazie a tutti Grazie a tutti